Ciao a tutti, l'inverno sta arrivando e da Cabot è disponibile un ecomontone in colore rosa. Cabot è una boutique per donna che si trova a Perugia, per cui è disponibile questo bellissimo ecomontone rosa per il vostro inverno e per scaldarvi, per cui io vi lascio in descrizione il link del post della pagina Facebook di Cabot dove potete vedere questo ecomontone, dove potete appunto vederlo e dove potete vedere tutti gli altri prodotti del mondo Cabot perché poi è una pagina Facebook dove ci sono i contatti del negozio, tutte le foto, tutte le novità, tutte le promozioni per cui potete restare sempre aggiornati. Non vi resta altro che andare nella descrizione di questo video e aprire il link per vedere sia l'ecomontone che poi per vedere tutti gli altri prodotti del mondo Cabot per cui non vi resta altro che fare tutto questo perché da Cabot è arrivato un ecomontone colore rosa per il vostro inverno.